Manca ormai poco, da giovedì alle 21.30 in diretta su Arezzo TV, in questo ring si affronteranno politici ma non solo perché ne vedremo delle belle, il ring e tutto il materiale annesso e connesso ce l'hanno portato gli amici della BoxNicchi, Aldo Nicchi, qui a sedere magari al tuo posto forse ci sarà anche il prossimo sindaco di Arezzo. Ma questo insomma glielo auguro, diciamo questo è il nostro ring simbolico, è l'ambiente della nostra vita, rappresenta lo scontro ma scontro leale, anzi auguro a chi si scontrerà sopra questo quadrato di dire le proprie motivazioni, il proprio programma e cercare insomma di dire le proprie ragioni augurando la vittoria e di seguire la nostra città in maniera eccellente. Da giovedì su questo ring allora alle 21.30 si affronteranno gli opposti politici ma anche gli opposti se vogliamo di altri settori, dall'economia al lavoro, insomma tutte le altre componenti della nostra società, quindi si presume che saranno degli scontri anche abbastanza accesi, no? Poi qui sul ring viene ancora meglio. No infatti no no, questo qui si fa per dire, tutto sarà una cosa simbolica, il ring, guantoni, cazzotti, perfetto, sia per politici, sia per i commercianti, che sia sia, questo qui è simbolico, se non si comportano bene sarà reale. Vi aspettate qui fuori, no scherzo. Allora da giovedì alle 21.30 in diretta su Arezzo TV in questo ring davvero ci saranno momenti da non perdere anche con il vostro contributo da casa, vi aspettiamo giovedì.